Zainetto modello 1951 svedese, interamente costruito in canvas, in fotone naturale, spallacci lo stesso, il materiale naturale canvas, agganciati tramite dei moschettoni in alluminio, regolabile tramite questa fibbia metallica, agganciato tramite questo bottone automatico che si può togliere e lo spallaccio diventa una tracolla, poi sul davanti invece abbiamo il classico sgancio automatico veloce per le porta maschera antigas e due bottoni automatici di ritenzione, sganciando questi l'apertura è immediata per estrarre più presto la maschera antigas. La complessità dello zainetto la vediamo all'interno con una taschina con bottone automatico posta sulla parte superiore, altre due taschine sempre con bottone automatico interne, un'altra tasca grande dotata di una piccola taschina interna con automatico, anche questa grande è chiudibile con automatico e sul fondo troviamo una tasca orizzontale aperta sotto che probabilmente serve per contenere materiali dedicati alla maschera antigas, quali filtri di ricambio, lenti di ricambio, antidoti eccetera. materiale sommariamente ben costruito, molto resistente. materiale 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 Grazie.